Buongiorno a tutti, grazie intanto di questo invito e vedremo anche poi alla fine di dare la disponibilità di ISPA e di tutte le agenzie per contribuire al successo di questo progetto. Io penso di essere uno dei più anziani dentro questo auditorium come operatore che si è occupato di questioni ambientali e è vero, l'impalcatura teorica è un'impalcatura che viene da lontano in questo paese, grazie anche a Riccardo, è stato uno dei promotori e forse uno dei pionieri che ha creduto moltissimo sul tema del GPP, che ha visto nel passato, io mi ricordo fine degli anni 90, allora facevo l'assessore in condizioni diciamo molto più deboli da un punto di vista legislativo rispetto a quello che è oggi, alcuni comuni che si sono cimentati, alcune regioni che si sono cimentate già allora in un quadro anche normativo non così stabile come quello che abbiamo oggi, nell'effettuare delle sperimentazioni di grandissimo interesse. Sono l'assessore di un comune che ha introdotto per primo in Italia il biologico nelle mense, parliamo dell'inizio del 1990, poi si procedette con il progetto, allora si chiamava Last Minute Market, che era quello sullo spreco alimentare, quindi nell'introdurre insomma quei criteri che già allora in realtà a livello sperimentale si potevano introdurre. Quindi stiamo parlando di concetti di un'elaborazione teorica che ormai ha più di vent'anni e che purtroppo, come veniva ricordato dal presidente Viscaglia, nell'operatività, nonostante oggi ci sia anche un quadro regolatorio che è sicuramente più favorevole, ancora stenta diciamo a entrare completamente nella prassi delle pubbliche amministrazioni. Per quanto, ripeto, se si facesse una raccolta di best practice sono convinto sicuramente che avremmo dei risultati di grandissimo interesse, perché ripeto, in quegli anni parlo dove probabilmente c'era molto fermento da un punto di vista teorico sui temi della sostenibilità e dell'ambiente, dove i comuni erano protagonisti, ricordo tutto il percorso di Agenda 21 locale, che era un percorso che vedeva il nostro paese all'avanguardia in un contesto europeo di grandissimo interesse. Allora, ripeto, tutta una serie di politiche di prassi, le amministrazioni comunali, quelle più innovative, tendevano a portarle avanti. Quindi di esperienze ce ne sono sicuramente diverse. Dicevo oggi il contesto riportato, scusatemi la semplificazione, però non c'è dubbio che sia il contesto strategico a livello internazionale che anche quello nazionale è assolutamente molto più favorevole, perché da allora passi avanti ne sono stati fatti tanti. Io qui ho riportato alcuni documenti, alcune linee strategiche che credo siano assolutamente di grande importanza, che condizionano tutto il lavoro che noi dovremo fare per il futuro. E quindi dall'Agenda 2030, dove poi come sapete c'è proprio un ITEMS, che è il 12, che parla di produzione e consumo sostenibile, quindi in realtà ha maggior anche supporto del fatto che il tema di cui stiamo parlando oggi non è un tema esclusivamente ambientale, ma di grande trasversalità. Perché ovviamente quando si parla di produzione e di consumo si intercettano altri settori, che vanno da un lato quello ovviamente della produzione, numero uno, ma anche dei comportamenti e dell'educazione ambientale del cittadino. Quindi sono questi due grandi famiglie di stakeholder di riferimento, da un lato il cittadino, dall'altro l'impresa, nel mezzo ovviamente della pubblica amministrazione, che a seconda del ruolo che svolge deve fare il proprio mestiere. E non c'è dubbio che con il recepimento su cui si sta lavorando del pacchetto del West Package, quello dell'economia circolare, questo elemento diventa ancora più importante e più cogente. Ecco qui, insomma, siete tutti addetti che le parti addetti ai lavori, quindi mi scuso anche nel dire, se dico cose, di cui siete perfettamente a conoscenza, ma ripeto, questo ITEMS eleva, diciamo, questo tema a un livello che va oltre al tema squisitamente ambientale. E quindi, come dicevo prima, il GPP è perfettamente all'interno della strategia nazionale di sviluppo sostenibile, che altro non è, che in gran parte è l'applicazione dell'agenda, quello che dovrebbe essere l'applicazione dell'agenda 2030. Quindi un contesto strategico, politico, internazionale, nazionale, così favorevole, diciamo, per portare avanti alcuni ragionamenti, probabilmente non c'è mai stato. E riprendendo il ragionamento fatto prima, se già da prima avevamo, in condizioni molto più complesse, complicate, amministrazioni che comunque si erano cimentate in un settore come questo, credo che, insomma, oggi, in teoria, il contesto dovrebbe essere più favorevole da un lato, anche se vedremo poi che ci sono invece degli elementi frenanti che devono essere assolutamente considerati. Quindi, come dicevo prima, di fatto le sfide che abbiamo di fronte sono, ovviamente, le imprese che devono di fatto fabbricare prodotti più durevoli da un lato e dall'altro indicare anche i servizi che siano ovviamente più sostenibili, e i consumatori, perché sono un elemento fondamentale in un'economia di mercato, perché questi generano ovviamente domanda è la politica, dove per politica si intende anche la pubblica amministrazione, diciamo, nel suo operare, che deve creare il contesto normativo da un lato, ma anche gestionale ed esecutivo, per poter arrivare a questi obiettivi. Ecco, ci sono alcune questioni, ripeto, andando sempre più a fondo, che sono assolutamente fondamentali per portare avanti un certo tipo di ragionamento. Non c'è dubbio che tutto il tema del GPP non è sconnesso da quell'altra grande questione di cui ci si sta dibattendo e di fatto impantarando, che è questo del tema del cosiddetto end of waste, cioè di quando in realtà un rifiuto non è più tale e può essere reintrodotto in un ciclo virtuoso da un punto di vista economico, il che non vi sfugge che nel momento in cui io faccio un appalto e indico che dentro questo appalto ci deve essere una sostanza, una materia, materiale, che proviene da un percorso fatto in un certo modo, se questo percorso non va avanti, cioè implode, il sistema implode. E guardate, non siamo molto lontani da questa situazione, quindi il paradosso del paradosso è che da un lato abbiamo un contesto assolutamente favorevole, dall'altro ci stiamo incagliando e addirittura oggi stiamo mandando in crisi le regioni che sono le più virtuose perché i prodotti, le filiere e i prodotti che possono essere oggetto di recupero le filiere che portavano l'endoguesco di blocco delle autorizzazioni stanno mettendo in ginocchio una buona fetta di imprese virtuose del nord Italia. Da lì aspetti anche assolutamente patologici come questa recrudescenza degli incendi che ci si è stato ultimamente, che non è che prima non c'era ma non in una situazione come questa. Chiaro che quella è una parte assolutamente patologica ancora minimale ma che è un segnale che va colto perché stiamo spingendo sulla raccolta differenziata stiamo aumentando il recupero, siamo al top su alcune recuperi di cicli di materia, abbiamo imprese innovative che si stanno cimentando con dei percorsi economici di grandissimo interesse ma in realtà col quadro regolatorio siamo piuttosto impantanati e stiamo rischiando, ed è un paradosso perché non è che stiamo parlando di quelli territori, di quelle regioni che sono storicamente in ritardo che hanno bisogno di essere accompagnate, stiamo parlando del pesto più virtuoso del paese che se gli diamo un'ammazzata, voglio dire, altro che GPP, cioè vanno considerate, scusate se mi sono permesso visto che lo stiamo vivendo quotidianamente anche da un punto di vista tecnico e colleghi delle agenzie ieri l'altro giorno ero in Emilia Romagna, vetreria che sta chiudendo, 100 persone a casa dal lavoro vetreria recupero di materia, cioè è un'azienda che faceva riciclo, recupero, cioè non è che stiamo parlando di produttori primari, quindi non c'è dubbio che il tema deve essere considerato. Il tema della ricerca e innovazione, mi soffermo perché è evidente che nella progettualità dei prodotti e nella proposta dei percorsi anche di servizi eventuali che vengono forniti devono assolutamente essere in linea. Si sta facendo con questo progetto, e benvengano, il tema dell'educazione, informazione, comunicazione e sensibilizzazione del sistema, razionalizzazione dei consumi, poi c'è un indicatore sugli acquisti verti più o meno, che anche questo conoscete bene. Sotto è semplicemente riportato quello che oggi è il nostro quadro normativo, diciamo che è un quadro assolutamente più favorevole rispetto al passato. Ecco, in questo contesto, parlo un po' di noi, il Sistema Nazionale di Protezione dell'Ambiente, legge 132, in cui ISPRA svolge funzioni di coordinamento, ma che comprende le 21 agenzie regionali e delle due, all'interno delle quali ci sono ovviamente anche le due delle province autonome, Trento Bolzano, è da anni impegnato in questa attività e non c'è dubbio che la nuova norma, la chiamo ancora nuova perché in realtà la 132 è in gran parte ancora inapplicata, per una parte, però prevede assolutamente nell'articolo 3 tra le indicazioni dell'attività del sistema anche tutta attività che riguarda il tema di cui stiamo parlando oggi. Ripeto, non solo questo, cioè le possibili ambiti di azione, l'ho scritta così per l'economia circolare, anzi questo è il contributo in realtà di un collega dell'Arpa di Muria, questa diapositiva come altre, poi ho pescato chiedendogli di permesso ovviamente. Ci sono tutta una serie di attività che vanno, come vi dicevo prima, dall'endowaste, dai sottoprodotti, dagli acquisti verdi, dall'LCA e dall'LCC che sono fondamentali, da tutto il tema educativo, da tutto il tema della ricerca, c'è tutto il tema degli inventari dei gas serra di cui noi siamo depositari e poi c'è anche tutto il tema dei controlli ambientali che non sono secondari rispetto ai ragionamenti che stiamo facendo, perché tutta la volta che si parla di controlli ambientali si immagina sempre il controllo ex post che avviene quando il problema è già sul tappeto. In realtà oggi soprattutto le agenzie tecniche lavorano molto in fase preventiva per il rilascio autorizzativo e poi c'è anche una fase ex post dove esercitiamo dei controlli, compreso il fatto se le imprese certificate hanno ancora i requisiti per mantenere il certificato o meno. Quindi questa attività abbiamo intenzione ovviamente di svilupparla sempre di più. Qui è semplicemente riportato un pezzo della norma in cui, come vi dicevo, per noi il ruolo dell'SNPA nella diffusione dell'attuazione del GPP è assolutamente importante, come veniva detto prima lo è da tutti e due i punti di vista, nel senso che noi prima abbiamo fatto un'attività e stiamo facendo un'attività all'interno e vi farò vedere, abbiamo, vabbè questi sono i criteri ambientali minimi che conoscete meglio di me, ecco però mi interessava a fare vedere queste, queste sono linee guida che noi abbiamo prodotto nel 2017 che riguardano il sistema agenziale per cui ovviamente come anche noi abbiamo agenzie che sicuramente sono all'avanguardia, agenzie che sono un pochino più indietro, però come giustamente è stato detto l'attività uno se la deve fare dentro alla propria organizzazione ovviamente e se la deve fare poi nel nostro caso come supporto invece alle strutture pubbliche sia di carattere regionali per quanto riguarda le ARPA e in questo caso rispetto al governo e ai ministeri per poter portare avanti appunto delle linee guida sui temi di cui stiamo parlando oggi, quindi noi abbiamo già una linea guida del 2017 che può essere perfettamente riadattabile anche ad altre strutture della pubblica amministrazione perché poi i concetti non sono molto diversi, quindi come c'è scritto qua, rendere più sostenibili gli appalti dell'agenzia per ridurre gli impatti ambientali, per quanto non è che noi facciamo un'attività particolarmente impattante ma sicuramente sul fronte dei consumi abbiamo assolutamente il nostro peso. Così come vi dicevo prima svolgiamo queste funzioni istituzionali anche per l'applicazione sia della certificazione di prodotto sia Ecolabel o Emas che come sapete hanno avuto sicuramente un picco qualche anno fa, oggi c'è una certa stabilizzazione e probabilmente anche le cose che forse diceva, non ricordo più, penso il segretario generale all'inizio, il fatto che le certificazioni possano essere vissute come una sorta di rallentamento delle proprie attività potrebbe essere anche la causa del fatto che insomma ultimamente non c'è una corsa ad aumentare queste tipologie di applicazioni. Però insomma studiamo anche qua, c'è la possibilità, abbiamo anche dei segnali invece noi estremamente positivi, fra qualche paio di mesi ad esempio ci hanno chiesto di partecipare a questa certificazione di Emas o simile Emas molto vicina del petrolchimico di Ravenna in Emilia Romagna, anche questo che è una certificazione d'area che ha un suo interesse. Temi anche questi di cui sono anni che se ne parla non è che sono nuovi, ma che sono poi nel vederli applicati poi sono assolutamente importanti. Come vi dicevo questo modello è già stato recepito, che vi dicevo prima, da alcune ARPA che qui sono indicate, ma la nostra intenzione ovviamente è di estenderla un po' a tutti quanti. significa creare un sistema di gestione da cui discende un'apposita organizzazione alterna con almeno un referente GPP, figura esperta a supporto dell'ente per l'applicazione dei camma, poi le linee guida prevedono anche la creazione di un sistema di rilevazione, veniva anche questo ricordato prima, di monitoraggio, di rilevazione monitoraggio che permetta sia una verifica interna che la comunicazione anche ovviamente agli stakeholder di riferimento. E come anche qui ho detto prima, queste rappresentano oggi una buona pratica esportabile a tutti gli enti pubblici. Siamo partiti anche con un corso interagenziale sul GPP, che è stato un primo corso di sistema messo online su una piattaforma ISPRA a partire da gennaio 2018, quindi in realtà un mese fa, quindi estremamente recente. È stato considerato un utile strumento di formazione, insomma che c'è stato richiesto, ci viene richiesto anche da altre strutture, l'associazione dei comuni metropolitani, non si era insieme, esatto, eccola lì, perfetto, ripeto siete tutti operatori, quindi non mi soffermo, per cui c'è questa attività in corso. Vabbè, poi come si diceva prima ci sono anche dei granelli di sabbia nel meccanismo che in un qualche modo devono essere assolutamente tolti. C'è anche questo protocollo di intesa che è stato ricordato ANAC, Ministero dell'Ambiente, che spero serva poi successivamente a snellire le nostre procedure. noi abbiamo introdotto anche nel nostro piano strategico del sistema dell'SNPA, noi abbiamo un piano triennale che per leggi siamo obbligati ad approvare, quindi nel piano 2018-2020 proseguiranno queste attività che riguardano l'applicazione del GPP all'interno del sistema, ecco, con quell'obiettivo che c'è scritto qua, cioè anche di raccogliere un po' di best practice per aiutare poi sempre di più l'operatore pubblico ad orientarsi nel sistema. Ecco, quindi per concludere noi ci siamo, abbiamo sviluppato nel tempo soprattutto alcune agenzie, ma con ISPRA a fianco un know-how che credo debba essere assolutamente messo a valore. Abbiamo anche, essendo un sistema rete, siamo sostanzialmente molto diffusi sul territorio e quindi anche in un eventuale ragionamento, che abbiamo già iniziato a fare con Riccardo Rifici, sulla possibilità di diffondere e di cercare di coinvolgere le amministrazioni pubbliche, siano esse regionali che amministrazioni comunali, un certo tipo di strumenti possiamo metterli in campo, proprio perché essendo un sistema rete abbiamo la possibilità di arrivare con una certa facilità sui territori e ovviamente anche con i sistemi delle imprese territoriali. Però, ripeto, non c'è dubbio che il contesto da un lato normativo che favorisce aiuta, dall'altro bisogna che però quell'altro pezzo di contesto normativo sia coerente e con le cose che ci stiamo dicendo qua, perché se no, ripeto, il cortocircuito sarebbe assolutamente devastante per tutto il sistema, non solo da un punto di vista ambientale ma anche e soprattutto da un punto di vista produttivo. Grazie. 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 Grazie.